Ha vinto Luigi Spagnoli ma con riserva secondo lei? Assolutamente sì, non credo che riesca a fare la giunta e anche se riuscirà a farla sarà una giunta come dire assolutamente momentanea, assolutamente traballante perché sarà un rassemblaman di persone totalmente eterogenee l'una dall'altra. Io credo che sarebbe più serio a Bolzano come in tutti gli altri due comuni purtroppo che si vada al voto perché il dato che emerge non solo che il primo partito purtroppo in Alto Adige come nel resto d'Italia è l'astenzione, scusate, cioè appunto il partito del non voto e questo deve farci interrogare tutti, tutta la politica e soprattutto deve farci interrogare i candidati e le cosiddette leadership locali ma soprattutto appunto il fatto che l'elettorato tedesco non risponde più agli ordini dell'SVP e soprattutto che l'elettorato tedesco, e questo è sicuramente un dato positivo, è ormai contrario al potere costituito, ai poteri diciamo così determinanti, ai poteri tra virgolette dittatoriali. Lei ha detto che è un elettorato tedesco che viene a mancare in queste elezioni, però la destra non si presenta ma è compatta e lo vediamo anche con Forza Italia che ha perso nettamente, oltre a tutti gli altri partiti, con la Lega che cresce. La Lega cresce in deterrenza a Forza Italia, ha fatto bene a ricordarlo, cioè la Lega ha preso l'11% a Bolzano che si è andata a vedere esattamente il dato mio del 2005 insomma, quindi è del 2000 quando abbiamo sempre vinto, quando Forza Italia era in crescita sotto la mia leadership, ogni partito è in crescita se ha una leadership credibile. Nel caso della Lega non ha vinto la Lega locale, ha vinto Matteo Salvini che ribadisco ha preso gli stessi numeri che invece ho preso io, che avevo una leadership locale, che credo in qualche maniera ancora di mantenere, che era assolutamente assemblabile o meglio sovrapponibile a quella di Berlusconi a livello nazionale. Quindi si conferma una cosa anche da queste elezioni, che contano le persone, contano la credibilità delle singole persone. Il centrodestra non è andato unito perché non ha saputo scegliere un candidato che potesse essere unitario, io perché non ho mai proposto la mia candidatura, perché a torto ragione so di essere una persona che all'interno del centrodestra sarebbe stato locale, sarebbe stata divisiva, stessa scelta che non avrebbe dovuto fare Alessandro Orzì. Il candidato Frattini si dimostra al 100% che avrebbe vinto al 70% l'elezione al primo turno, perché con un SVP così debole, la parte dell'intelligenza SVP che era totalmente orientata a votare Frattini, l'astenzionismo così alto era un dato di fatto che il sindaco di Bolzano sarebbe stato un'operazione PPE, quindi un'operazione di centrodestra. All'Aives perde la difede, perde ancora una volta l'SVP che si divide, o meglio l'elettorato tedesco che si divide, ovviamente complimenti vanno a Cristian Bianchi che però era lo stesso candidato di 5 anni fa, quindi non si può dire che porti un valore aggiunto, ma che perdono gli altri sicuramente. Un dato clamorosissimo è quello di Merano che conferma nel 2005 se non ci fosse stata la lista sostenuta da Maurizio Gasparri e da Giorgio Olsman contro il candidato PDL che era l'avvocatessa Claudia De Benedetti, oggi staremmo parlando di un sindaco uscente di centrodestra, ovvero di Forza Italia, perché i Verdi avrebbero sicuramente votato per un candidato mistilingue che era il nostro.